Otto concerti, una conferenza e una masterclass sono gli eventi del secondo festival internazionale di clarinetto Portus Naonis, in calendario dal 13 maggio al 16 luglio. Il recupero urbanistico dell'ex biblioteca e di Piazza della Motta hanno consentito di creare un centro artistico-culturale in città, che l'assessore alla cultura Alberto Parigi commenta così. Il festival di clarinetto arricchisce il grande panorama artistico-musicale e culturale porto-denonese. E peraltro solo uno degli appuntamenti si svolge alla Casa della Musica, gli altri sono in altri punti della città. Questo conferma che la Casa della Musica ha raccolto pienamente la missione che le ha affidato il Comune, cioè quello di uscire dalle proprie mura e di mettersi al servizio della città, per esempio valorizzando Piazza della Motta con i concerti che faremo quest'estate, con il festival del clarinetto, ma prendo anche altre collaborazioni con le associazioni artistiche della città. Per esempio facendo un concerto a metà maggio per gli ospiti della Casa di Riposo qua di fronte. Ecco, quindi una nuova struttura culturale e dinamica al posto di quello che prima era una struttura in disuso e vuota. Mi pare un ottimo passo avanti e in questo percorso di crescita la Casa della Musica avrà al suo fianco l'assessorato alla cultura. Massimo Micossi, presidente della Scuola di Musica che organizza il festival, illustra gli obiettivi. Diamo il via a questo secondo festival internazionale di clarinetto Portus Naonis, un progetto ideato e guidato dai maestri Massimo Mascherin, che è il nostro direttore artistico e Marco Lagni, che è il nostro specialista di strumento, che sostanzialmente ha tre obiettivi. Il primo è di far conoscere lo strumento, il clarinetto, o meglio la famiglia dei clarinetti, perché si parla di clarinetto ma in realtà ci sono tantissimi strumenti, dieci della famiglia appunto. Quindi noi vorremmo rilanciare questo strumento e rifarlo conoscere perché si è un po' perso. Il secondo obiettivo ambisce a far diventare la nostra città un centro di eccellenza e di riferimento internazionale per questo poliedrico strumento, valorizzando nel contempo anche con il nostro contributo le potenzialità della città e del nostro territorio. Infine, ultimo ma non certo in ordine di importanza, la didattica, perché ricordiamo che siamo sempre una Scuola di Musica.